Ci troviamo sul campo del Gispi Reggwi Prato, siamo al 31esimo anno di attività come squadra che cura il settore giovanile del Reggwi Pratese. Attualmente siamo attivi con dei numeri molto ampi perché riusciamo a schierare tutte le categorie dall'Under 6 fino all'Under 14 con dei numeri rassicuranti per quello che può essere il nostro futuro, quindi ci assestiamo circa sulle 300 presenze complessive tra Under 6 e Under 14, tutti i ragazzi che si sono avvicinati al Reggwi attraverso quello che è il nostro progetto scuola. Per quanto riguarda l'obiettivo che ci siamo posti dall'inizio dell'avventura Gispi c'è quello chiaramente di rendere i ragazzi parte di un gruppo, avvicinarli a quelli che sono i valori dello sport, della condivisione appunto di certi momenti. Il concetto del sostegno comunque dell'avanzamento insieme del Reggwi è una cosa che i ragazzi devono avere sul campo e poi devono cercare di traslare nella loro vita da adulti. Su questo penso di poter affermare che condividiamo gli stessi valori e gli stessi principi che portano avanti anche il nostro sponsor che è Estra e appunto su questo fondiamo la base dell'educazione dei nostri ragazzi. Grazie. 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 Grazie.